Dragon Freebooter sempre più illegale, eh? Dragon Freebooter, sei da allontanare dalla società, eh? Sì, sì, no, lo conosciamo. Ma loro lo stanno più conosci? Sì, beh, cioè, vabbè, avranno capito, se no sei la persona più maleducata del mondo. No, perché magari c'è tutta una gag sotto, cioè, tipo che... No, 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 non esistono gag. Qua è tutto real. Oddio, che figa! Madonna, mi ha bellissimo i capelli così. Guardati, m***a, sì. Mi sono messo pure pazza. Sì, no, no, m***a, sei andata una po' clamorosa, te lo metterei. Simone. Noi. Eh, ma loro non fare un... mentre sai che ci vorrà tempo. Aspetta, e poi... Mi sono un attimo impappinata. Non mi ricordo. Vai, è un po' di mozzarella sulla bocca, se posso permettervi. Lo dico perché magari... Grazie. Non mi ricordo più. Eh, no, vuoi dire che non mi ricordo più. Perché non ti ricordi? Eh, non so. Cosa volevi dire? Stai mangiando una mozzarella? Io ti ho detto prima che te lo metterei. Hai detto Simone. Qual era il messo? Cosa cazzo lì? No, niente, niente. Dai, ma dillo. Non mi ricordo. Ma com'è mia amica? C'è la mia... Piesing che l'ha fatto a Sinazzi. Figa. Assolutamente. È vero. No. Andiamo a chiedere le mani più grandi. Illumina. Oh, no, 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 no. Mi piavo. Aspetta, aspetta che ho fatto con l'intro. Marca miseria. Quindi io bravo, complimenti. Eh, lo so, è la concorrenza. La contributo è la concorrenza.